la macchina è tua eh? come cazzo devo fare? eh apri con la chiave fino a quando non ti passa lì ok 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 a posto il blu per la scienza scuola aspetta è il fucchietto un po' io adesso ti piace così? sì così va meglio non te ne ero attivato se no si diventa doppio cucciolo metti il push to talk ok così ti piace? così ok guarda che cazzo facciamo adesso con le ruote faccio una cambia le ruote e lascio questa ah lascio questa che cazzo altro c'è le ruote finestrini te li faccio oscurati si si fa oscura claxon vabbè non ti interessa il fucchiet te l'ho fatto ok eh vuoi non no? è neoblu ok adesso lascio il potere celestine così? si si aspetta che ti metto lascio? si stessa roba ancora ferro ciaio qualche da rogine? mi ci Grazie.